Buonissime alcuni programmi non da oggi sono i due. Dopo l'informazione delle TG2 ore 13, ci attendono le rubriche Il Parade e Si Viaggiare. La squadra di Numbers è ancora una volta al lavoro tra rivalità e complotti. Segue Las Vegas, una corsa contro il tempo per salvare una donna ingegnera di mal di venti. Alle 17.50 ci attendono gli aggiornamenti delle TG Sport, a seguire le TG2 edizione comandiana. La serata ci riserva in prima visione due episodi di Rex con Ettore Bassi, protagonista di questa magnifica quarta stagione. Ed ora cari amici vi lascio con Giancarlo Magalli, Adriana Volpe e Marcello Cirillo, conduttori dei TG2. Buona visione e buona giornata con i due.